Ehi la! Ed iscrivvi al canale E niente, io vi lascio il video So che mi stai ascoltando Allora, il primo prodotto che vi farò vedere Sono queste tre penne Roll Bull della Faber-Castell Che costavano solo 1,99€ Tipo, voglio assolutamente provarle Sono due blu e una rossa Però c'erano anche due nere e una rossa E appunto costavano 1,99€ Poi il secondo prodotto sono queste due cancelline Della marca Lab Sistema Casa Che credo sia la marca dell'Eurospin Sono appunto due correttori a nastro Bianchetti, bianchetti, cancelline a nastro Insomma, come le chiamate voi E niente, una per me, una per mia sorella Sono molto carine azzurre E queste venivano 1,99€ se non mi sbaglio Poi abbiamo preso tre quaderni Della marca Monocromo edizione Star Wars Il primo che è quello di mia sorella È fatto così, appunto bianco Con uno strong pooper E secondo me è molto carino Qui c'è scritto Monocromo ed è scritto Star Wars Dentro sono a righe di quinta senza margine E venivano mi pare 1,59€ all'uno Oppure 1,39€ non ricordo bene Poi sia io che mia sorella abbiamo preso questo Non si vede in cavolo Ecco, è nero E c'è Darth Vader L'ho disegnato sopra Sempre della Monocromo Sempre dell'edizione Star Wars E anche questo sempre a righe di quinta senza margini E anche questo veniva sempre 1,39€ o 1,50€ L'ultimo che invece questo è mio Ecco Blu Sempre dell'edizione Monocromo Non si vedrà mai niente E vabbè Davanti c'è disegnata la Il Millennium Falcon Sempre della marca Monocromo Sempre dell'edizione Star Wars Sempre a righe di quinta senza margine L'articolo che abbiamo preso L'abbiamo preso identico Ed è questo quaderno a spirale Molto carino Perché è tutto arancione Con l'aspirale arancione Ed è della marca Smart Questo veniva invece 3,99€ Però è conveniente Perché ha veramente un sacco di pagine Come potete vedere E questi invece sono a quadretti neri E ecco Hey là sono tornata Spero che il video sia stato di vostro gradimento Se è così vi ricordo sempre di lasciare un bel pollice in su E no un pollice in giù Di commentare E mi raccomando di iscrivervi al canale E sempre se volete Vi ricordo di andare a vedere il video precedente E mettere anche lì un bel like Vi mando un bacione E al prossimo video Ciao Ragazza vuol fermi un voodoo